Salve a tutti amici, in questo video vediamo come ingrandire la casa in Fields of Mistria. Serve intanto raccogliere 500 di pietra, 500 di legna e ci vogliono 5.000 monete. Fatto questo bisogna andare nella parte nord-est della mappa, quindi seguendo questo percorso, per andare dal carpentiere. Ecco qua. Andiamo. Andiamo, seguiamo adesso il percorso a nord e ci ritroveremo dal carpentiere, quindi entriamo e andiamo ad acquistare l'aggiornamento con Home Upgrade 1, in questo caso il primo upgrade, poi ce ne saranno altri. Questi sono i requisiti, li ho, sì, compriamo ed ecco fatto. Già che ci sono, io adesso compro anche la cucina e la carpenteria portatile, in modo da poterla piazzare nella mia nuova casa più grande. E questa è la differenza, come potete vedere, la casa è molto più grande, posso piazzare la cucina e anche questo con facilità. Volendo, poi se non volete piazzarli o non avete ancora i soldi, potete aspettare. Un saluto.